cari amici di mille un'avventura finalmente torniamo sul nostro amatissimo commodore 64 grazie a un programma un gioco che ha creato marco bergomi marco bergomi lo abbiamo incontrato sul canale di mille un'avventura diverse volte adesso andiamo un po a vedere tanto per rinfrescarci la memoria che cosa ci aveva proposto in altre situazioni e aveva proposto per esempio questo dark tower che è un libro game un per commodore 64 come vedete bisogna fare alcune scelte per portare con sé degli oggetti e poi si comincia a si comincia ecco a fare appunto determinate scelte incontrando dei personaggi e svolgendo dei combattimenti con questa energia che scende mano a mano che prendiamo del danno ecco anche in questo caso c'è stato un combattimento e non abbiamo più scampo e questa volta probabilmente è andato male ecco quindi ci aveva proposto questo dark tower più di un anno fa ormai su commodore 64 con questo libro game e vedete c'è tutto il sorgente da cui effettivamente se l'avete provato questo programma magari avete recuperato qualche considerazione utile per i vostri programmi in basic sul sull'antico commodore 64 poi avevamo visto invece questa avventura sul vic 20 quindi spazio da commodore 64 vic 20 ma credo lui preferisca il vic 20 questa avventura the last voyage che prendendo spunto da forse non ha lui preso spunto dagli e paper adventures però anche marco bergo mi ha pensato di creare un'avventura testuale sul vic 20 come gli paper adventures che facevano anche qualcosa di grafico e qui ci troviamo su una astronave che viene mandata a rottamare contro la stella non mi ricordo se era il sole o qualcosa del genere e noi purtroppo ci siamo messi su questa astronave a dormire e poi vedete ci sono le solite direzioni si possono selezionare i vari oggetti esaminarli cambiare stanza e se non ricordo male aveva scritto marco che ci sono 44 locazioni con oggetti nascosti bisogna sempre guardare bene tutto quanto per non perdersi degli oggetti importanti anche questo più di un anno fa l'avevamo visto e non è finita qui sempre di marco bergomi nei videogiochi degli scritti 3 quindi stiamo parlando di più di sei mesi fa c'era questo gioco realizzato per il commodore 64 evil chambers evil chambers queste stanze malvagie dove vedete c'è una la chiocciolina come tutti in roguelike si vede la chiocciolina che rappresenta il giocatore e ci si poteva spostare ecco all'interno di queste camere i vari caratteri che si vedono qui rappresentano oggetti diversi e quindi molto simile a quello che vedremo tra poco ma con una differenza e tra poco vediamo qual è la differenza qui bisognava inserire gli spostamenti come non mi ricordo come ma bisognava inserire gli spostamenti mediante opportuni input non è finita qui ecco l'ultimo che vi propongo tanto per mostrarvi questa evoluzione anche questo di un anno fa quindi è più antico di questo che abbiamo visto per il commodore 64 qualcosa di simile per il vic 20 golem il titolo e ci sono però in questo caso vedete i caratteri ridefiniti su questi caratteri molto spaparanzati del vic 20 che danno questa scrittura anche abbastanza difficile da leggere perché sono molto espansi in orizzontale ecco qui bisognava tipo roguelike andare a muoversi all'interno di un di un dungeon per arrivare appunto a raccogliere tutti i tesori che ci si trovano all'interno e allora andiamo a vedere che cos'è questo nuovo gioco che ci propone nuovo per il canale perché lo mostro adesso a parte che appunto appena inizia si intitola farpoint di marco bergomi lettuta mappe uno dice ma cioè fai un gioco così spaziale spaziale nel senso che sul commodore 64 ridefinire i caratteri fare tutto il programma in basic e poi ti scappa lettuta mappe si vede che è l'ultima cosa che ho fatto un po di fretta magari l'ha già corretta perché me l'ha mandata settimane fa e lo mostro adesso per i problemi che ho avuto e quindi accontentiamoci però andiamo sicuramente a correggere eccolo qui la riga 13 lettura mappe così adesso il gioco è perfetto poi vedete che si vanno a ridefinire si va a utilizzare un programma in linguaggio macchina non ho idea per cosa anzi addirittura qui cancella riga questo locate e non ho guardato il codice ho solo provato il gioco e vedo che effettivamente vengono usati dei programmini linguaggio macchina che però mi sembrano dai valori all'interno del kernel non vorrei dire stupidaggini però probabilmente sono all'interno del kernel o forse no ce lo dirà marco bergomi quando andrà a spiegare un po' probabilmente quando vedrà questo video se ha voglia di dirci qualcosa nei commenti sicuramente li andremo a leggere con piacere ecco qui vedete tutte queste sequenze di caratteri particolari è evidente che sono le mappe perché avete visto qualcosa di analogo prima invece questi probabilmente sono tutti i dati per ridefinire i caratteri allora andiamo a eseguire farpoint di marco bergomi lettura mappe sta in qualche modo andando a leggere credo a ridefinire i caratteri credo e tra poco inizierà il gioco e potremo accorgerci vedete che c'è il punteggio c'è l'energia e poi possiamo spostarci questa volta non inserendo come nel gioco precedente che vi ho mostrato su commodore 64 un input da tastiera ma si può usare il mouse il nostro personaggio è quello mino verde che vedete lì sopra che si può spostare all'interno di questa mappa e si può usare non il mouse ma il joystick che volevo dire e vedete che possiamo muoverci e come nell'altro gioco dobbiamo vedete raccogliere delle monete d'oro rappresentate dal simbolo del dollaro ci sono poi queste grate queste dovrebbero essere grate quelle che sono sotto al personaggio andiamo a prendere anche queste altre monete d'oro poi vedo lì che possiamo spostarci in questo modo si ci si può muovere anche in diagonale quindi abbiamo evitato quell'oggetto che non so che cosa sia poi magari ci passiamo sopra per scoprire che cos'è e infine vedete ci sono delle scale che ci permettono probabilmente di scendere perciò un roguelike dove per il momento non si vedono nemici a meno che non siano quei cosi blu che si vedono ci spostiamo proviamo a raggiungere queste scale e vedete che quando si raggiungono le scale si cambia mappa e questa mappa notate che non porta a scendere ulteriormente possiamo però raccogliere gli oggetti che si vedono qui in giro e poi torneremo alle scale che sono queste le scale che salgono evidentemente sono rappresentate con questo quadrato e queste scalette che scendono ora vado a recuperare qui poi torno ecco recuperato queste monete ecco ho messo il piede su una trappola sono stato troppo impulsivo premendo i pulsanti che nell'emulatore emulano il joystick e mi sa che questa trappola per fortuna ci ha tolto solo 10 di energia e prima era mi pare 99 ora andiamo a prendere questo cuoricino qua che ci ha ripristinato trovi una pozione che dà energia adesso facciamo attenzione andiamo a scoprire cosa sono questi questi quadratini blu diamo saliamo cadi in una buca vediamo se riusciamo a uscirne la buca più pericolosa 69 e allora bisogna davvero fare attenzione quindi come vi dicevo un rogue like adesso vado in diagonale così evito le buche e mi vado a prendere un po di energia almeno torniamo a 79 intanto ci dà anche se non sbaglio dei punti o forse i punti li facciamo solo con le monete d'oro non ci ho fatto caso al punteggio andiamo in diagonale ancora in diagonale ci sarebbero dei soldi lì ma voglio tornare velocemente ecco siamo tornati al livello superiore per vedere ancora un altro livello e non so se questo è stato questo gioco per c64 è stato pubblicato da qualche parte probabilmente sì ma non ho probabilmente tutto probabilmente il link perché credo me l'abbia mandato per email all'epoca perciò qui sotto nei commenti se l'ha pubblicato da qualche parte marco vi metterà il link vediamo cos'è questa croce e poi vedo degli dei personaggi con l'arco è una sorta di spada tanto vado qui sulla croce il maleficio ti toglie energia è un maleficio quello lì e il personaggio che vedete qui sotto notate che è un roguelike ma con i personaggi i nemici che ci sono che non si muovono sarebbe interessante magari nei livelli successivi succederà far muovere ogni volta che ci spostiamo far muovere questi personaggi ecco se vado sopra al personaggio devi affrontare un nemico dice lo ha eliminato probabilmente c'è stato un combattimento però non ho visto quanta energia posso aver perso abbiamo preso pozione proviamo ancora dunque siamo energia 59 proviamo ad affrontare questo altro personaggio devi affrontarlo lo ha eliminato e non so quanto sia facile eliminarli quanto siano le probabilità non ho avuto penalizzazioni quindi probabilmente lo scontro è stato positivo per noi prendiamo le monete d'oro vediamo cosa succede se finiamo su una grata eccoci qui su una grata rotta e abbiamo perso dell'energia poca energia e poi c'è questa scaletta che ci porta che ci porterebbe su quindi vedete ecco qui addirittura abbiamo quattro mini da combattere e allora lo li combattiamo ecco in realtà mi accorgo che non si capisce se le scale salgono o scendono è sempre un quadratino con le scale rappresentate non avevo notato il che il quadratino c'è sempre almeno dobbiamo tornare su sì il quadratino c'è sempre bisogna ricordarsi qual è la scala da cui siamo arrivati allora tanto per finire andiamo a incontrare tutti questi personaggi affrontiamo un nemico lo abbiamo eliminato ci ha colpiti vedete non è così facile ci ha di nuovo colpiti questo è tosto lo abbiamo eliminato siamo però energia 24 proviamo a eliminarne un altro questa volta è andata bene questo è stato un po' il secondo un po' critico e vediamo che cos'è questo diamante questo quadrato che troviamo qui una pepita che ci ha portato ad avere 145 punti e allora per concludere facciamo una corsetta e andiamo a superare queste grate e proviamo a salire forse di là siamo arrivati volevo vedere un'altra stanza tanto per vederla forse questo l'ho già vista no questa è un'altra stanza e prendiamo questi soldi anzi prima la pepita poi questi soldi e poi vediamo che cos'è questo oggetto qua abbiamo messo il piede su una trappola ormai siamo praticamente morti rimettiamo il piede su una trappola abbiamo 4 di vita e proviamo adesso a mettere il piede sulla grata e vedete meno 11 hai terminato la tua energia la tua avventura è terminata in questo luogo terribile vuoi giocare ancora si no e si va avanti bene questo era come che si intitola farpoint di marco bergomi che è un'evoluzione di un paio di giochi che abbiamo visto tempo fa che rispetto ai caratteri ecco c'è stata questa evoluzione di rendere i caratteri diciamo così personalizzati e la cosa appunto è un roguelike ma con i nemici che non si spostano qui sotto nei commenti quando marco passerà di qua probabilmente troverete un link per scaricarlo così magari riuscite a dare un'occhiata vediamo come si vede il listato no il listato si vede benissimo pensavo avesse ridefinito i caratteri ma evidentemente ha ridefinito solo alcuni caratteri gli altri quelli soliti ecco si vede infatti che sta passando il carattere della mappa ridefinito e poi avrà cambiato qualche altro carattere che fa parte dei caratteri grafici del pet ascii della commodore ecco quindi potrete dare un'occhiata ai sorgenti se vi metterà qui sotto il link per appunto scaricarli spero che vi abbia interessato sempre molto bello vedere qualche gioco moderno diciamo fatto moderno fatto in questi anni col basic del commodore 64 e si può fare effettivamente qualcosa di interessante con un po di fantasia che ovviamente non è nulla di originale rispetto a quello che vedevamo negli anni 80 però è bello averlo riproposto ai giorni nostri a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ringrazio anche marco bergomi per avermi mandato questo gioco e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti